Sindaco, la sanità è uno dei temi più sentiti dalla popolazione, ma c'è preoccupazione per il futuro del Santa Croce? La sanità è centrale perché la salute riguarda tutti, quindi il primo elemento è una salute in sicurezza. Con una nuova strategia, quella di avere quattro ospedali nel territorio provinciale, per essere tali devono avere tutte quelle discipline che riconoscono l'essenza di un ospedale, come prevede anche il decreto Balduzzi. La preoccupazione è che in questo contesto, con le difficoltà che ci sono, che fanno rischi di essere adegnello sacrificale, in un contesto ad esempio con Pesaro e Durbino. Parto dal presupposto che debba esserci un'integrazione, specialmente tra Fano e Pesaro. Pesaro è un hub dedicato particolarmente alla chirurgia specialistica, Fano è più un hub di medicina generale, internista. Questo va bene, però l'ospedale deve essere tale. Se c'è un pronto soccorso, devo avere delle strutture alle spalle, perché altrimenti non si è in sicurezza, cominciare da cardiologia. Poi c'è un tema molto forte, che è quello della mobilità passiva, cominciando dall'ortopedia. Ci sono 50 posti che ballano, ed è giusto che questi vengano attribuiti a Fano, nella quale possono esserci all'interno queste specificità che possono aiutare. E la preoccupazione che ho lanciato anche oggi è quella di vedere lentamente che alcuni reparti vengano trasferiti con il rischio di spogliarlo. E questo sarebbe un danno poi difficilmente recuperabile. Allora mi sono permesso di fare questa segnalazione forte per evitare che ciò accada, ma soprattutto perché ci sia un progetto all'interno di un piano sanitario che vada a rafforzare e a far svolgere il ruolo importante che deve avere. Quindi è rischio anche gastroenterologia? Esatto, c'era nel sentore che potesse verso l'estate essere trasferito, allora quella è una presenza importante, perché poi con le stesse motivazioni altri reparti potrebbero seguire la stessa sorte. Quindi è importante, è importante che abbia le discipline fondamentali, in sicurezza ovviamente e abbia tutte quelle strumentazioni. Fra l'altro ci sarà anche la nuova palazzina che verrà realizzata e qui bisogna ringraziare la Regione per l'investimento che sta facendo. Quindi ci sono anche gli spazi per consentire, per accogliere nuovi posti e per dare un'importanza, ripeto, se pensiamo che non è una questione di bandierine, è una questione di bisogno e di popolazione. Se guardiamo anche gli accessi del pronto soccorso, vediamo che i numeri alcune volte sono anche più alti di quelli di Pesaro, perché c'è un bacino di utenza importante, non è un problema di Fano, è un problema di Vallate, che sono punto di riferimento, ovviamente in un'integrazione con gli altri ospedali, però questo è importante e in tal senso vuole essere il mio impegno, coinvolgendo anche i colleghi, perché la strategia non deve essere solo cittadina, ma deve essere territoriale. Ovviamente in questo dialogo che si è aperto con la Regione, perché come dicevo sono venuti a presentare il piano sanitario, ma nei fatti è stata fatta una fotografia dell'esistente senza le nuove progettualità. Le scelte fatte sono quelle note da tempo, che ormai sono già applicate, quindi c'è tutto lo spazio per poter lavorare e contribuire per scrivere il nuovo piano sanitario.